Cosa ci fanno qui quei soldati? Alt! Resta lì! Cosa ci fanno qui? A del post! Ci sono guai! Venite tutti qui! Allarme! Che è successo qui? Questo corno! Temo sia Otis! Vestito come uno scrive! È proprio Otis! Pover'uomo! Segni di tortura! Qualcuno ha tentato di farlo parlare! Documenti sul bilancio del palazzo! Non mi interessa! Povera ragazza! Una delle serbe! Lettere e documenti del palazzo reale! Niente che mi sia utile! Il sangue di Otis ha provato a fuggire! Erano decisi a non lasciare testimoni! È stato aggredito nel sonno! C'è qualcosa in quella giara! C'è qualcosa in quella giara! C'è qualcosa in quella giara! Hai fatto un ottimo lavoro nel raccogliere informazioni, Otis! Mentre attraversi la duatta! Te lo prometto! Se ne avrò l'occasione, Mi assicurerò che il generale Rufio la paghi cara! Vai in pista! Merda! Abbiamo fatto libera! Fatante! Fatante! Fighetela! 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 Aiuto! Ormai è finito, bastardo! Fighetela! 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 Fighetela!